Don Giosuè Lombardo, oggi mercoledì santo ci prepariamo a vivere il triduo pasquale che poi ci porterà domenica la Santa Pasqua di Resurrezione. Quali sono gli appuntamenti per le celebrazioni? Questo pomeriggio del mercoledì santo tutto il presbiterio della diocesi di Napoli ci ritroviamo in cattedrale col Vescovo e durante la celebrazione vengono benedetti gli oli degli infermi, dei catecumeni, il sacro Crisma e i sacerdoti rinnovano le promesse sacerdotali e poi porteremo gli oli sacri nelle parrocce dove domani sera durante la celebrazione della messa in cena a Domini saranno accolti questi oli santi nelle nostre comunità. In Basilica alle 18 e 30 ci sarà la lavanda dei piedi, l'istituzione dell'Eucarestia, ricorderemo l'istituzione del comandamento nuovo dell'amore proprio nella lavanda dei piedi, l'istituzione dei sacerdoti, fate questo in memoria di me. E poi il venerdì santo, incomincia il triduo sacro col venerdì santo, la passione del Signore, con le ore pomeridiane in tutte le parrocchie c'è questa sacra liturgia del venerdì santo, in Basilica è sempre alle 18 e 30, c'è il momento dell'adorazione silenziosa, la liturgia della parola, la passione del Signore secondo il Vangelo di Giovanni, il bacio alla croce che è l'adorazione della croce. Baciare la croce significa quasi mangiare Gesù, aderire al suo sacrificio. E incomincia il grande silenzio, il silenzio del sabato santo, un silenzio carico di attesa. Noi alle 9 e 30 abbiamo le lodi e l'ora della madre, un momento di preghiera accanto a Maria in attesa della risurrezione del Signore. E poi la veglia pasquale in Basilica alle ore 21, c'è la lunga veglia pasquale, la celebrazione del battesimo, il rinnovo delle promesse battesimali, la eucarestia col canto dell'alleluia, il canto del risorto e come si dice popolarmente sarà sciolta la gloria, no? Saranno suonate le campane a festa di tutte le parrocchie l'annuncio della risurrezione del Signore. Che significa portare la croce e poi risorgere? Portare la croce per un cristiano è aderire interiormente con la vita, con l'esperienza cristiana della sequela Cristi, aderire con le piccole e grandi prove di tutti i giorni al Signore, sapendo che però la croce è gloriosa. La Pasqua riaccende nell'umanità questa speranza di vita che viene dall'amore di Cristo, che continua a immolarsi nella storia, nei perdenti, negli emarginati, negli ultimi, ma noi con la nostra accoglienza, col nostro amore e con la nostra vita buona possiamo aiutare tanti a risorgere. Il suo messaggio, i suoi auspici per la comunità di Santa Croce ma per tutta la cittadinanza, nel segno della Santa Pasqua. Mi ritorna sempre in questi giorni l'augurio di Thomas Merton. Ogni scelta che ci fa liberi è una risurrezione di Cristo nella nostra vita. La città sarà anche chiamata a compiere delle scelte importanti per la sua amministrazione. Noi incarniamo la verità del Vangelo nelle scelte che ci fanno liberi. E ci rendono signori in questa città. Ogni scelta che ci fa liberi è una risurrezione di Cristo in questa città, nelle nostre parrocce, nella nostra comunità di Santa Croce. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.